Titans, ho paura che sia successo qualcosa di grave al coniglietto di Pasqua e se non dovessimo trovarlo, la Pasqua sarà rovinata! Titans, go! Ho realizzato che non so dove andiamo. Qualcuno sa dove vive il coniglietto? In un buco sottoterra? Sì, ma dove? Nell'isola di Pasqua? Non c'entra niente con la Pasqua! Com'è possibile che conosciamo tutto di Babbo Natale? Quanto pesa, le condizioni della pelle del viso, gli sporadici alti e bassi con la moglie, ma non sappiamo niente del coniglietto di Pasqua? Lo immagino col pelo rosa mentre gioca con i pulcini di Marshmallow. Non indossa un gilet o qualcosa del genere? Secondo me è per metà uomo e per metà conillo e dipone lui le uova di Pasqua che mangiamo.